Attraverso testimonianze, documenti d'archivio pertinenti e riprese contemporanee, la ricostruzione dell'evento è lineare, senza digressioni, completa. Si configura come un film di revocazione storica su un microcosmo degli anni 60-70 del secolo scorso, con qualche accenno al contesto storico, senza appesantimenti ma anche con qualche assenza di approfondimento, l'esperanto come reagirono le forze politiche. La vicenda che viene raccontata è una vicenda molto interessante, attraverso la quale si vuole raccontare anche uno spaccato della storia italiana, è anche un sogno che si interseca con la possibilità di farsi storia e rimane un po' troppo in superficie, cioè come se non ci fosse poi stata veramente fino in fondo la capacità di dare una dimensione più di spessore a questa storia e farci quindi intravedere ancora meglio questa relazione tra questa vicenda individuale e la storia e l'Italia e il paese. Questo documentario, non lo so, la prima cosa che mi è sembrato che non avesse molto a che vedere con la libertà e con il 68, con l'idea rivoluzionaria. Mi è sembrato sinceramente delle persone ricche, molto ricche, che hanno deciso di fare una pazzia. E anche nel modo di raccontare questa cosa, a parte l'intervista finale a questo personaggio, che appunto c'è una specie di colpo di scena, che questo personaggio appare solo alla fine, mi è sembrato una trasposizione dei fatti senza nessuna metabolizzazione del pensiero che c'era dietro questo progetto, insomma, di questa piattaforma. Un film biografico su un personaggio eccentrico che tenta un'impresa stravagante. È costruito con materiali di repertorio, come un classico documentario televisivo, a un ritmo vivace che vuol tenere destra l'attenzione dello spettatore, cercando di suscitare una suspense serpeggiante che però alla fine mi pare che si sgonfi nel nulla, nello scherzo, fine a se stesso. L'interesse principale è dovuto alla inconmensurabilità che c'è tra la fantasia giocosa del protagonista e poi il sistema invece di attese e di repressioni della società e della politica nell'Italia degli anni 50.